Salve ragazzi, per l'ultima lezione nel nostro ciclo riguardante la geometria nello spazio oggi affronteremo un argomento che molto spesso può causare un po' di confusione riguardo l'uso di certi termini. Infatti oggi andremo a vedere l'argomento del peso specifico. E per capire come mai parlare di peso specifico, soprattutto riguardante la geometria del programma italiano può causare qualche problema, torniamo indietro a dei concetti che abbiamo già studiato insieme in prima media ovvero i concetti di massa e di peso. E per aiutarci in questa esplorazione dei concetti di massa e di peso, in questo ripasso chiederemo l'aiuto alla nostra astronauta italiana, Samantha Cristoforetti che qui vediamo in due situazioni diverse. Prima di tutto partiamo dalla definizione, dalla definizione di massa e dalla definizione di peso che potete leggere qui alle mie spalle. La massa è la quantità di materia contenuta in un corpo e come tale, ovviamente è una quantità che non è destinata a cambiare a meno che noi non applichiamo qualche modifica a questo corpo se li aggiungiamo o togliamo qualche pezzo ma in generale la massa di un corpo non cambierà cambiando il contesto. Viceversa invece, quello che noi chiamiamo peso in realtà è l'effetto della forza di gravità più normalmente l'effetto della forza di gravità della Terra su un corpo. Questo effetto è direttamente proporzionale alla massa del corpo però a differenza della massa il peso può cambiare proprio perché dipende dalla forza di gravità quindi dipende da dove ti trovi e in che situazione stai. Quindi vediamo due casi in cui lo stesso oggetto in particolare quindi l'astronauta Samantha Cristoforetti e andiamo a vedere in queste due situazioni la massa e il peso di Samantha. Quando è sulla Terra la nostra astronauta italiana ha una massa di 50 kg quindi già qui andiamo a ricordare che il kg è l'unità di misura non del peso ma della massa quindi nel sistema internazionale dell'unità di misura la massa si misura in kg quindi Samantha ha una massa di 50 kg essendo sulla Terra sente come tutti noi l'effetto della forza di gravità quindi avrà un peso e il peso di una persona che ha una massa di 50 kg è circa 500 newton l'unità di misura del peso è il newton perché il peso è una forza e l'unità di misura di tutte le forze che sia la forza di gravità che sia una forza elettrica e così via si misura in newton come potete già intuire c'è una relazione abbastanza semplice c'è una conversione abbastanza semplice tra massa in kg e peso in newton quando siamo sulla Terra infatti vedete che questo numero è 10 volte più grande della massa questo perché per un caso diciamo questa relazione è appunto peso uguale massa per 10 in realtà sarebbe 9,8 ma noi normalmente lo arrotondiamo con 10 e questo è vero sulla Terra su un altro pianeta su un altro corpo celeste in un'altra situazione la conversione sarebbe diversa consideriamo ora Samantha Cristoforetti nello spazio che galleggia nello spazio con la sua tuta fuori dalla stazione spaziale internazionale allora ricordateci pensiamo un attimo quale sarà la massa di Samantha Cristoforetti andando a vedere di nuovo la definizione di massa quindi la quantità di materia contenuta in un corpo la quantità di materia dentro Samantha non sarà cambiata quindi sarà sempre circa 50 kg quindi questo numero non cambierà a seconda di dove ti trovi sarà sempre una cosa che caratterizzerà Samantha Cristoforetti invece gli astronauti che orbitano intorno alla Terra si trovano in una situazione come diciamo di assenza di peso non è esattamente assenza di gravità la distinzione è un po' sottile e va un po' al di là di quello che voglio spiegarvi oggi però a tutti gli effetti Samantha è in assenza di peso quindi il suo peso è uguale a zero quindi ricapitolando la massa è una grandezza che non cambia e si misura normalmente in kg il peso è una grandezza che può cambiare a seconda della situazione in cui ti trovi e come tutte le forze si misura in N quindi qui abbiamo 50 kg 50 kg qui abbiamo 500 N sulla superficie terrestre e qui abbiamo 0 N nell'orbita della stazione spaziale internazionale la confusione che ci può essere tra i concetti di massa e peso perché poi nella vita di tutti i giorni noi ci riferiamo al peso chiamandolo appunto con unità di misura di kg e così via quindi molto spesso noi indichiamo con il peso quello che da un punto di vista della fisica è in realtà la massa lo stesso tipo di confusione si fa tra due grandezze che sono legate rispettivamente a massa e peso ovvero la densità e il peso specifico e di nuovo sono due grandezze che abbiamo già incontrato nel corso di scienze di prima media e a questo punto è utile andare a rinfrescarci un po' la memoria la densità è definita come il rapporto quindi la divisione tra la massa m di un corpo e il suo volume v quindi densità uguale a massa diviso volume dal momento che nel sistema internazionale dell'unità di misura l'unità di misura principale della massa è il kg e l'unità di misura principale del volume è il m3 l'unità di misura principale per la densità sarà kg su m3 in realtà di nuovo questa è una cosa che abbiamo già visto in prima media è più comodo per noi usare un'altra unità un'unità derivata che sono i grammi su cm3 perché? perché gli oggetti con cui avremo a che fare normalmente in un corso di scienze o in un corso di geometria avranno una massa più dell'ordine dei grammi che dei kg e soprattutto delle dimensioni dei volumi più dell'ordine del cm3 che del m3 che abbiamo già visto essere un volume molto molto grande il peso specifico è una grandezza che invece definiamo in maniera molto simile solo che al posto della massa c'è il peso dell'oggetto quindi il peso specifico di nuovo è un rapporto tra il peso P dell'oggetto e il volume V andandoci a ricordare quello che abbiamo visto nella lavagna precedente ovvero l'unità di misura del peso è ovvio che l'unità di misura del peso specifico sarà in newton su metri cubici e questo è il quadro come dovremmo trovare normalmente che so in un libro di scienze tuttavia quello che succede nel corso di geometria della terza media si si fa un po' di confusione essenzialmente quando voi andrete a vedere sul vostro libro di testo il concetto di peso specifico in realtà è più legato a quello che ho appena definito come densità ovvero quello che sul libro viene chiamato peso specifico ovvero il rapporto tra peso e volume in realtà è più equivalente al concetto di densità perché noi avremo il peso che in realtà è la massa di un oggetto misurato in grammi il volume del mio oggetto qui non c'è nessuna ambiguità misurato in centimetri cubici quindi il più delle volte quando sul libro di testo di geometria andranno a parlare di peso specifico si riferiranno a un rapporto tra una grandezza misurata in grammi e una grandezza misurata in centimetri cubici quindi molto spesso quando verrà messo il valore di un certo peso specifico con un certo numero più delle volte e questo lo andiamo a vedere anche nella lavagna successiva non verrà nemmeno messa l'unità di misura sotto intendendo che l'unità di misura saranno in grammi su centimetri cubici quindi ricapitolando sul libro di testo e così anche nell'esame questa è una cosa importante e per questo ci tengo a sottolineare questa differenza tra il concetto scientificamente corretto e il concetto così come viene utilizzato nell'esame terza e media quando qui e nel corso di geometria parleremo di peso specifico in realtà ci stiamo definendo la densità di un oggetto dopo questa lunga premessa possiamo finalmente vedere come si usano le formule legate al peso specifico in un problema di geometria quindi cominciamo con la formula diretta la formula diretta in realtà sarà quella per ricavare il peso ovvero in un problema di geometria un problema di geometria dei solidi molto spesso cosa succederà verranno date delle informazioni che vi permetteranno di trovare il volume di un oggetto che può essere un poliedro potrà essere un solido di rotazione e poi vi verrà detto questo oggetto viene fatto con un certo materiale e quindi vi verrà dato il peso specifico perché questa è una cosa molto importante così come la densità il peso specifico è una grandezza caratteristica di un determinato materiale quindi che so un oggetto fatto in legno anziché un oggetto fatto in granito anziché un oggetto fatto in vetro avranno un peso specifico diverso una densità diversa allora attraverso queste due informazioni il volume che probabilmente vi sarete ricavate attraverso un normale problema di geometria e il peso specifico che vi verrà fornito come informazione dal problema dovrete alla fine proprio come risultato finale del vostro esercizio trovare il peso quindi usare questa formula che è peso uguale a peso specifico per volume e vediamo due casi proprio due casi usando dei valori reali supponiamo di avere un oggetto fatto in alluminio il peso specifico dell'alluminio è 2,6 notate come io stesso l'ho scritto senza unità di misura usando quindi la stessa convenzione che troverete sul vostro libro in realtà da punto di vista scientificamente corretto questa sarebbe la densità dell'alluminio e l'unità di misura sarebbero i grammi su centimetri cubici ecco supponiamo di avere un blocchetto di alluminio con un volume di 100 centimetri cubici uso la mia formula diretta per trovare il peso quindi peso uguale peso specifico cioè 2,6 per il volume che è 100 e viene fuori 260 grammi quindi io so già che se prendo un blocchetto di 100 centimetri cubici di alluminio questo blocchetto avrà una massa o come sbagliando si dice speso un peso di 260 grammi vediamo vediamo un altro esempio sempre di applicazione della formula diretta utilizzando un altro materiale ad esempio il piombo che invece ha un peso specifico maggiore 11 vediamo anche un'interessante conseguenza di questo peso specifico maggiore si può avere un blocchetto della stessa dimensione dello stesso volume del blocchetto che abbiamo visto prima quindi 100 centimetri cubici faccio nuovo il mio calcolo peso uguale peso specifico per volume quindi 11% fa 1100 grammi e questo è un risultato che non ci deve assolutamente sorprendere se un oggetto con un peso specifico ovvero con una densità maggiore a parità di volume quindi è stesso volume del oggetto di materiale A è lo stesso volume dell'oggetto di materiale B se il materiale B ha un peso specifico maggiore avrà anche alla fine un peso maggiore quindi 100 centimetri cubici di alluminio 100 centimetri cubici di piombo i 100 centimetri cubici di piombo peseranno di più abbiamo visto quindi la formula diretta possiamo applicare ora le due possibili formule inverse cioè quella che mi permette di calcolare il peso specifico è quella che mi permette di trovare il volume vi anticipo già che sarà più facile trovare il primo caso anzi quello diciamo è il caso che noi abbiamo già esplorato in un laboratorio che abbiamo fatto in prima media ovvero se vi ricordate noi abbiamo fatto un laboratorio in cui siamo andati a misurare la massa ovvero il peso di alcuni oggetti ne avete trovato il volume e poi facendo il rapporto ne avete trovato il peso specifico attraverso questo calcolo del peso specifico uno può andare a risalire al materiale di cui è fatto un oggetto ecco questo è un classico esempio di applicazione di questa formula la formula inversa che in realtà abbiamo già incontrato viene proprio dalla definizione di peso specifico è il peso diviso volume e supponiamo di avere un oggetto quindi che ha un peso di 85 grammi il volume di questo oggetto è solo 10 centimetri cubici applico la mia formula faccio 85 diviso 10 e viene fuori un peso specifico di 8,5 senza unità di misura ma in realtà sottentendo che è grammi su centimetri cubici a questo punto lascio a voi il compito di andare a controllare sul libro di geometria dove c'è una tabella proprio nel capitolo che riguarda il peso specifico in cui sono riportati i valori dei pesi specifici di alcuni materiali d'uso comune andare a vedere quale materiale ha un peso specifico di 8,5 quindi sapere di che cosa è fatto questo blocchetto di 85 grammi l'ultima formula inversa che come vi ho anticipato incontreremo meno spesso è quella che mi permette di trovare il volume che si trova facendo di nuovo il rapporto tra peso e peso specifico supponiamo di avere un oggetto con un peso di 21 grammi e un peso specifico di 10,5 di nuovo facendo il rapporto 21 diviso 10,5 viene fuori un volume di 2 cm3 la prossima unità comincerà a questo punto a fare una panoramica sui vari tipi di solidi quindi andremo a vedere quali sono i solidi che dovremo studiare e andremo a vederli uno alla volta e andremo a vedere come di questi solidi possiamo estrarre tutta una serie di informazioni in particolare l'area della superficie e il volume e chiaramente il volume andrà a ricollegarsi all'unità di misura che abbiamo incontrato nelle due lezioni precedenti l'unità di misura del volume e della capacità e nei problemi diciamo più estesi applicare questo volume per poi andare a trovare il peso di questi oggetti ma con questo è tutto arrivederci alla prossima lezione